Figlio d'arte, debutta sul palcoscenico da piccolo. Dapprima per sopperire alla mancanza di una bambola che doveva fungere da infante in enna creatura. Sperduta di Edoardo Scarpetta, all'età di soli sei anni. Interpreta la parte di Peppiniello in Miserie e Nobiltà, la fortunata commedia di Scarpetta. Per poi fondare da adulto una fortunata compagnia teatrale con i due fratelli. Il trio De Vico appunto. Negli anni 30, anni in cui il trio si cimenta nell'avanspettacolo con buon successo. De Vico conosce Anna Campori, cantante d'operetta e attrice romana. Anche la figlia d'arte, che diventerà sua compagna di vita e di scena. Nel 1962 il grande Edoardo De Filippo lo chiama ad interpretare. In Natale in casa Cupiello. La parte di Nennillo e di qui ha l'opportunità di recitare in molte commedie del grande autore. Napoletano. Alcune delle quali per la televisione. Ma la grande popolarità arriva con Giovanna. La nonna del Corsaro Nero. Trasmissione televisiva andata in onda dal 1961 al 1966 in cui De Vico. Assieme alla moglie e a Giulio Marchetti. Riscuote grande successo nella parte di Nicolino. Nel 1971. Voluto da Luisa Conte e dal marito Nino Veglia. Prende parte a Annella di Porta Capuana. La commedia che ha segnato la riapertura dello storico teatro San Nazaro. Accanto a Luisa Conte e fra i principali interpreti dell'opera teatrale di Gaetano Di Maio. Bravo attore di prosa. Negli anni della maturità viene chiamato dal regista Antonio Calenda in molti spettacoli di. Sul cesso. Tra cui Cinecittà. 1985. E Aspettando Godo di Samuel Beckett. 1990. Tra i film cui De Vico ha partecipato. Quasi sempre come caratterista o spalla comica dalla notevole bravura. Celebri le sue interpretazioni del balbuziente. Totò Truffa 62. 1961. Totò Diabolicus. 1962. Il Giudizio Universale. 1961. Che fine ha fatto Totò Baby. 1964. Sgarro alla Camorra. 1973. La Messa è finita. 1985. Ladri di futuro. 1991.